Ehi, come faccio a fatica stamattina? Uuuu, non mi posso male! Carmelina, carmelina! Mi ha passato tanta acqua, mi ha passato la gomma. Noi non c'è mai mangiata la pizza, non c'è mai mangiata ieri sera, tu niente nemmeno un ristorante cinese! Un ristorante cinese! E' che ci hanno filato di mangiare! Papà, mi ha già fatto una montagna e riso! Di chi? E' pure riso che ho riso a stregno, riso! E' come ho le panze! E' già una volta! Questa, secondo me, sarà stata un gelato fritto! Ma come ho già fatto? Mamma mia! E' come puzza! E' come si fa! E' se mi fa la culera! In voltini primavera! E' proprio autunno inoltrata! Ma che mi ha già messo? Tengo proprio la capanata a parte! Mi ha scordato la gamba! Oh mamma mia! Mamma mia! E' come facciamo stamattina! E' chi senta l'autore! Chi senta! L'autore! Eh! L'autore! Ma perché voi non lo sapete chi è l'autore! Ancora vado a farà chi è l'autore non giusto! Eh! Leonardo! Eh! Leonardo! Quello la che sta dentro qua! E' quello la... E' facilmente riconoscibile! Perché è quello la un poco poco più alto! Eh! Quello ce ne stanno due! Uno così! E' quello la quel bel piezzo di giovane diciamo alto! E' bello non tanto! Giovane nemmeno! E' stamattina mamma mia 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 mamma! Io ero? Sì! Comunque cosa non è male questo! Non... Knio! Un po' certo! Ma maiikke! Di profession. Sì! Che il gravolo della serie di chier? Rai pazza! Speriamo che ora che vengano nel nesco non ce ne accorgi. E' la puzza. Chi lo sape. Ma che fai? Parla solo? Buongiorno, buongiorno Anna Rebbe. Buongiorno. Hai visto il camice mia Anna? No. No? Non l'hai vista? No. E come hai fatto a metterlo? Lo tieni in colla no? Ma l'hai visto non è perché stamattina mi dovete scusare ma mi sono dimenticata il camice. Maronna, ma dove hai fatto? E' il camice vostro, non è? Chi l'ha fatto con me? Guardate. Ma qua il camice mia. Fai il profumo. Mamma mia, chi è successo proprio? Non è vero, sapete cosa mi è successo ieri sera? Mamma mia, chiamami i pompieri. Chi l'ha fatto cinese la dinta? Ma chi è? Ho fatto cinese ieri sera, primavera, ho giulato fritto. Figlia mia bella, hai visto il tuo ristorante cinese? E' elucidata. Mamma mia, è la tua roba che è la tua roba, ti hai mangiato dunque? Ho mangiato troppo. Ci rimane poco, capito? Non è vero. 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 Mamma mia, però chi l'ha ragione? Ma il caffetto è proprio brutto. E non è vero. E non è vero. Perché se questo non lo mette questo. Succede proprio, a chi lo sa. Uuh, mamma mia! E chissà, non posso mai scrivere fuori un magazzino oggi chiuso per fieto? Invece i feri è chiuso per fieto? No, chissà. Mamma mia, pure il cammese a Puzzolomita questa. Io lo tengo sempre profumato questa feta, pure il cammese. Mamma mia, su belle carasti il ristorante cinesi, mamma mia, c'è andare a mangiare. E puri sui chiusi nubari oltre, vada a pelle. Quelle poi bisogna.